Introduzione di nuove linee urbane e modifiche in alcune di quelle esistenti sono alcune delle novità nel trasporto pubblico locale. Le nuove linee attivate sono due e riguardano gli studenti delle frazioni che devono raggiungere Siracusa. Da Belvedere ogni giorno partiranno due mezzi, entrambi alle 7, per effettuare il cosiddetto giro scuole. Le corse di ritorno alla fine delle lezioni sono invece sfalsate, una alle 13.45 e una alle 14.20. Anche da Cassibile ogni mattina partiranno due mezzi ma in orari differenti, alle 6.50 e alle 7.05. Tre invece le corse per riportare a casa gli studenti, alle 13.15, alle 13.55 e alle 14.20. Il servizio è gratuito fino al secondo anno delle superiori, mentre per chi frequenta gli anni successivi è previsto un abbonamento. Novità importante riguarda la linea 107 Grotta Santa Costiera, introdotta la scorsa primavera, non effettuerà più corse solo dal lunedì al venerdì, perché il servizio è stato esteso anche al sabato, alla domenica e ai giorni festivi. Cambiamenti da oggi anche per la 105 Santa Lucia, che consentirà ai passeggeri di raggiungere l'ingresso di Ortigia. I bus, prima di finire la corsa in via Rubino, compiranno una deviazione imboccando via Malta per poi tornare indietro lungo Corso Umberto e dirigersi al Capolinea. Da lunedì prossimo e fino a giorno 22 sarà possibile viaggiare sui mezzi urbani con pochi euro. In occasione della Settimana Europea della Mobilità, la SAIS ha deciso di scontare il prezzo del biglietto. Con soli 5 euro per l'intera settimana sarà possibile viaggiare su tutte le linee e senza limiti di orario.